Ross, sei fantastico! Non funzionerà mai! Ma... cosa? Tra te e Rachel! Ma che... Ma che... ma che... insomma... Perché no? Perché hai aspettato troppo a fare la prima mossa e adesso sei nella zona amico, contento? No, non sono affatto nella zona! Senti, tu sei il sindaco della zona! No, in realtà mi ci vuole ancora un po' di tempo! Io sto preparando il terreno, sì, insomma... ogni giorno che passa mi avvicino un pochino di più al... Al sacerdozio! Senti, Rachel non ha ancora la benché minima idea di quello che provi per lei e se non ti sbrighi a farti avanti, resterai bloccato nella zona per sempre! Lo farò, lo farò! Sto soltanto aspettando il... il momento giusto! Cosa? Vuoi dire adesso? Che cosa ti manca? Il vino? Le candele? O forse il chiaro di luna? Eh? Tu ora devi solo andarle vicino e dirle... Senti, Rachel, io ti trovo... Shhh! 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 Perché fate shhh? Facciamo shhh! Perché... perché stiamo cercando di... di sentire qualcosa! Cosa? Shhh! Eh... non lo senti? Visto? Ah-ah! Non c'è più polvere Perché la mamma ci fa correre Facessi almeno ancora la cameriera Ma io adesso lavoro in polveriera La 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 Sì! Ok, allora vado Ti sei deciso? Sì, certo Vuoi una mano? Se esci fuori ti strangolo Ehi, Ross! Buona fortuna Grazie Ho detto... Grazie Figuro Ciao Ehi, dove stai andando? Fuori Non puoi andare là fuori Perché no? Perché... c'è... c'è una buona ragione Eh... E quale sarebbe? Io non... non posso dirtela Ma che sta succedendo? Eh va bene, vieni qui Però devi promettermi che non racconterai mai a Ross che te l'ho detto Ma che cosa? Vuole dare una festa per te Oh mio Dio, che tesoro! Ma tu non ne sai niente, d'accordo? Di che cosa? Della mia festa sorpresa Quale festa sorpresa? Oh smetti, la Joy mi ha detto tutto A me non ha detto niente E non te la prendere con me Ha fatto tutto Ross Ecco, come al solito Io qui sono sempre l'ultima a sapere le cose Non è vero Noi ti diciamo sempre tutto Certo! Non sono stata forse l'ultima a sapere Che Chandler era stato beccato dal pavone allo Joe? E non sono stata l'ultima a sapere Che ti ha ripresa una cotta per Joy? Cosa? Beh, allora in quel caso non sono stata l'ultima Che incanto Vorrei chiederti una cosa Ecco, in realtà Non è tanto una domanda Quanto una valutazione in generale Ma... Allora? Allora Da dove inizio? È già da un po' di tempo Che avevo intenzione di dirti che... Oh! Sì, sì Sì, è vero Guarda come dolce è quel gattino Cosa? Il gattino! Tutti noi vorremmo un mondo di pace Dove insieme fare quello che più ci piace Cantiamo in coro per grandi e bambi Ti ho detto che non brucia Sta tranquillo Scusa, quella era cera? Oh, povera gattina è terrorizzata Dovremmo riportarla dal suo padrone Perché invece non la molliamo giù nell'ingresso? Con questo blackout La calpesterebbero morte Sì